buonasera a tutti bentrovati aspettiamo come sempre qualche istante prima di iniziare ufficialmente vedo già alcuni di voi collegati benvenuti buonasera a tutti bene ok ci siamo allora iniziamo ufficialmente buonasera di nuovo io sono mattia uno dei fondatori della società dello zolfo la società dello zolfo è un centro di studi sull'esoterismo e l'occultismo nato a parma nel 2015 quindi ormai da qualche anno organizziamo eventi conferenze convegni per avvicinare le persone a questo mondo nel tempo abbiamo trattato più diversi argomenti di ricerca magia occidentale orientale astrologia vudo alchimia e altri argomenti che potete trovare come sempre sul nostro canale youtube per seguire quello che facciamo vi invito se ancora non l'avete fatto a seguire la nostra pagina facebook instagram ed iscrivervi al nostro canale youtube dove troverete appunto tutte le conferenze che abbiamo fatto fino ad ora che faremo dunque prima di iniziare volevo darvi come sempre qualche news per quanto riguarda le conferenze giovedì prossimo andremo in onda con una conferenza sugli orisha con paio nardo che era già stato nostro ospite per parlare del candomblé brasiliano inoltre proprio domani pubblicheremo la lista completa degli ospiti dell'occult convention di quest'anno che è la nostra convention su esoterismo ed occultismo che si svolgerà come l'anno scorso all'hotel parma e congressi e al labirinto dell'amasone di franco maria ricci le date sono 25 26 27 agosto quindi domani state pronti a vedere un po quello che sarà la line up diciamo dei nostri ospiti mentre per quanto riguarda i corsi la settimana prossima inizierà il corso di marco maculotti che qua con noi stasera che poi ci darà qualche informazione riguardo i suoi contenuti si parla appunto appunto di un corso sui miti nordici e appunto ne parleremo con lui prima di iniziare ufficialmente la conferenza le domande che abbiamo per lui il corso ovviamente alcuni posti disponibili ancora quindi se siete interessati potete scrivere alla società dello zolfo chiocciolo gmail.com la settimana scorsa invece abbiamo annunciato il nuovo corso pratico di stregoneria udo a cura di dorian bones ci saranno due classi a numero limitato di posti una classe in partenza giugno ed una a settembre 2023 il corso avrà una durata di 16 ore totale e sarà diviso in lezioni da due ore luna sarà prettamente pratico e gli studenti impareranno ad utilizzare candomblé e scusate candele oli erbe bagni incensi a creare talismani e incantesimi secondo questa tradizione anche in questo caso scrivete alla società dello zolfo chiocciolagmail.com vi lascio alla sigla e poi vi presento marco a tra poco bene bene buonasera buonasera marco ciao mattia buonasera a tutti grazie dell'invito un piacere come sempre essere qui con voi piacere come sempre nostro allora come sempre sono ormai marco non ha praticamente più bisogno di presentazioni è stato qua con noi diverse volte è il fondatore direttore editoriale di axis mundi rivista di storia delle religioni antropologie del sacro studi tradizionali folklore esoterismo e letteratura del fantastico e ovviamente anche il fondatore della neonata casa editrice axis mundi edizioni nel febbraio del 2021 ha pubblicato per mimesis edizioni il suo primo saggio carcosa svelata appunti per una lettura esoterica di true detective opera che ha riscontrato un'unanime attenzione di critica e pubblico mentre nel marzo del 2022 ha pubblicato per axis mundi edizioni l'angelo dell'abisso appollo avalon il mito polare e l'apocalisse saggio di storia delle religioni incentrato sull'escatologia appollinea ultima sua fatica e opera collettanea i miti nordici dei e tradizioni dell'europa settentrionale di cui parliamo stasera quindi marco benvenuto ti invito ovviamente dato che la settimana prossima inizierai il primo corso per per noi per la società dello zolfo a introdurci un po' quelli che sono i contenuti del corso ecco dato che siamo in tema ecco grazie ancora mattia della presentazione il corso si basa come da te appunto annunciato su questa nuova pubblicazione in uscita per di arcos edizioni del gruppo editoriale rusconi come detto io sono coautore di gran parte del libro e curatore dell'intero libro che appunto è una pubblicazione collettanea in quanto oltre ai miei contributi ce ne sono altri di altri autori fabrizio bandini della midgar editrice e alessandro bonfanti e andrea anselmo e alberto brandi che sono tutti studiosi del dell'ambito nordico germanico norreno si tratta di un testo di quasi 500 pagine che differisce dal dal più famoso i miti nordici di della professoressa gianna chiesi snardi che immagino molti di voi che state seguendo già conoscerete in quanto è meno enciclopedico diciamo il libro in sé si divide in grandi macro capitoli a loro volta formati da capitoli più brevi e il primo appunto sul sul cosmo norreno di cui faremo qualche parola anche stasera in apertura e poi il macro capitolo più ampio quello sul panteon nordico diviso tra dei asi o esir e dei vani o vanir e poi c'è un altro macro capitolo sull'entità sovrannaturali del cosmo norreno e infine l'ultimo sul sul ragnarok sul crepuscolo degli dei eh che ha un'importanza scatologica molto molto grande nel mito norreno eh in più alla fine eh dell'opera ci saranno ci sono degli degli appendici eh che abbiamo scritto appunto io e gli altri contributor all'opera che vanno ad analizzare delle questioni un po' più specifiche eh alcune delle quali faremo menzione anche stasera come per esempio il furo rodinico eh sacrifici umani sacrifici animali nell'antica tradizione norrena il simbolismo del cavallo eh insomma argomenti di questo tipo eh su questi su queste tematiche grosso modo si fonda il corso che andremo iniziare settimana prossima martedì prossimo eh naturalmente io mi concentrerò maggiormente sui capitoli da me trattati in prima persona eh quindi fondamentalmente Odino e la sapienza sacra eh gli dei vani quindi Freire e Freia soprattutto le entità sovrannaturali dagli elfi chiari agli elfi scuri eh fino alle norme che hanno un'importanza ehm una grandissima importanza nella nella concezione norrena del destino e poi appunto come già ha ricordato il ragnarok che è il crepuscolo degli dei che metterà fine nell'escatologia norrena a questo ciclo cosmico per per poi iniziarne per poi iniziare il successivo eh abbiamo provato con questa pubblicazione cercherò anche nel corso appunto di fare lo stesso di mettere in risalto eh più che altri autori che hanno trattato il tema della mitologia nordica eh le corrispondenze i collegamenti con le altre tradizioni del dell'alvio indoeuropeo quindi sia quella greco-romana quella celtica ma anche quelle più a oriente cioè quella indovedica eh e poi quella indoiranica quindi persiana eh questo perché in poche parole sia io che gli altri coautori di questo testo crediamo fermamente eh che sia riduttivo studiare la tradizione norrena soprattutto quella mitologica eh solo tenendo conto dei testi di snorri che come sappiamo sono abbastanza recenti risalendo l'undicesimo dodicesimo secolo quindi siamo già in in epoca cristiana eh questo però non per dire che vogliamo ovviamente inventarci tradizioni che non esistono semplicemente il confronto tra le tradizioni riportate dalle fonti che ci sono giunte per quanto riguarda la tradizione norrena se confrontate con altre tradizioni altre credenze eh soprattutto quelle magiche di cui parleremo stasera eh aiutano effettivamente come già mh studiosi del calibro di George Dumezil o Mirceliade hanno dimostrato nel secolo scorso eh come in realtà il la visione del mondo la visione mitica e soprattutto la visione sacrale degli antichi popoli germani con norreni eh vada considerata appunto nell'ottica generale di questo grande alvio indo-europeo eh che appunto anticipa eh con le migrazioni che noi conosciamo sono giunte in Europa eh queste tradizioni già dell'Oriente vedico e indo-persiano eh anticipano determinati argomenti come il dualismo cosmico tra l'entità di luce e di ombra poi vedremo meglio eh e anche determinati tipo di tipi di magia di cui parleremo stasera quindi soprattutto la magia odinica di Odino e la magia eh vanica cioè quella degli dei vani eh di cui la massima eh esponente diciamo così è la dea freia bene bene sicuramente un sacco di contenuti come al solito ci porterai piuttosto folti ecco ottimo allora io partirai subito con la prima la prima domanda quindi vorrei che ci parlassi un po' di quello che è il cosmo nordico quindi di Yggdrasil e i nove mondi io ho qui un'immagine che mi hai chiesto di presentare e adesso eccoci qua allora grazie di aver messo l'immagine perché spiegare la visione del cosmo e di conseguenza la visione sacrale e magica la concezione meglio che visione degli antichi popoli germanico e non reni è molto difficile se non abbiamo sott'occhio eh diciamo così la la versione mh disegnata raffigurata di questo cosmo anche se adesso come spiegherò subito eh non dobbiamo pensarlo in maniera bidimensionale come sicuramente qualcuno di voi mh avrà già pensato il concetto di albero cosmico che qui abbiamo messo raffigurato in due raffigurazioni è molto simile a quello l'albero della cabala l'albero delle sefirot cabalistiche eh questo non perché c'è un non perché le due tradizioni fanno parte dello stesso albio come sappiamo la cabala nasce in un ambito semitico medio orientale invece in questo caso come già detto ci troviamo in un ambito indoeuropeo eh innanzitutto vediamo che se vediamo la prima delle due immagini quella più a sinistra e poi ci spostiamo quella a destra che è più eh va più nel dettaglio vediamo subito che questo mondo il nostro mondo il Midgard il mondo di mezzo è esattamente al centro di eh questo albero cosmico eh no scusa l'altra quella è bianco e nero poi passiamo a questa eccoci innanzitutto il concetto di albero cosmico lo troviamo in tutte queste tradizioni sia indoeuropee ma anche eh eurasiatiche nell'ambito sciamanico per esempio nell'ambito siberiano ugro finnico tra l'altro vedremo come i popoli finnici hanno particolari legami con la magia dei vani quindi di freia eh l'albero cosmico cioè il palo cosmico l'axis mundi è questo concetto delle antiche religioni eh fondato sull'idea secondo la quale l'operatore magico che agisce ovviamente nel mondo degli uomini può raggiungere degli altri piani eh cosmici più sottili eh quindi più eh elevati nel caso quelli che sono al di sopra del nostro mondo di Midgard oppure più eh sotterranei più ctoni in questo senso più eh abissali che sono quelli che stanno al di sotto di Midgard eh il mondo degli uomini quindi è pensato idealmente in mezzo a queste due eh lati del cosmo quello superiore quello inferiore eh se tu adesso vai al massimo verso l'alto vediamo che al limite dell'albero cosmico al punto più alto c'è Asgard cioè il mondo degli dei asi degli dei uranici come Odino Thor, Tyr, Emdall e eh questo mondo ha di di rimando se vai al punto più basso eh come mondo dicotomico a El cioè il mondo degli spiriti disincarnati dei morti praticamente delle ombre dei morti anche qui ci sarebbe da fare un discorso più complesso che cerco di rassumere in poche parole come tutte le altre tradizioni antiche dell'ambito indoeuropeo anche quello germanico norreno eh riteneva che l'essere umano fosse formato da diverse anime quindi nel regno di El ci va solo l'ombra quella che andava anche nell'ade greco vediamo poi che eh se eh il regno degli asi e El stanno al punto più alto e quello più basso e quindi eh rappresentano la dicotomia tra cieli e inferi eh questi due metà del cosmo sono comprendono altri tre mondi per ognuna delle due delle due metà eh e adesso ti chiederei di mostrare l'altra immagine perché così lo spieghiamo meglio come dicevo prima in realtà non si può vedere questa raffigurazione come bidimensionale perché posto che i punti carline dell'albero cosmico sono eh Asgard, Midgard e El vediamo che ci sono intorno questi altri mondi che appunto vanno visti in maniera tridimensionale quindi non semplicemente nord ovest nord est come qui li vedete però insomma ehm si tratta di molto difficile raffigurare dei concetti così ehm così esoterici diciamo sta di fatto che in questi mondi in questo albero cosmico noi vediamo che tra Midgard e Asgard c'è il mondo degli elfi chiari e di rimando come mondo dicotomico sotto cioè tra Midgard e El c'è il mondo degli elfi scuri vediamo che ci sono tutte delle coppie dicotomiche di mondi eh in mezzo alle quali si trova il nostro questi due mondi degli elfi chiari e degli elfi scuri eh rappresenta il binomio luce oscurità è molto simile a cielo e inferi però ha una variante un po' diversa invece questi altri mondi intorno che noi vediamo sono questi che vedete azzurro e verde sono il mondo ehm ehm in realtà no questi qua quello rosso e quello viola sono Muspelim e ehm e ehm e Nilferim questi sono due mondi secondo la tradizione nordica più antichi quelli che sono venuti in esistenza per primi e uno quello che vedete fatto di fuoco appunto il regno dei giganti di fuoco l'altro il regno dei giganti di ghiaccio eh secondo la tradizione norrena all'inizio del cosmo quando ancora non esisteva Midgard e gli altri mondi eh questi due mondi soprattutto Muspel che è governato da Surt che poi avrà un ruolo importantissimo nel Ragnarok sono i primi a venire in esistenza e tutto il resto del cosmo si forma proprio dallo scontro incontro tra il fuoco e il ghiaccio primordiale se invece noi vediamo sotto troviamo il mondo dei eh dei giganti giganti delle rocce o delle montagne che è questo qui in marroncino e dall'altra parte troviamo ehm qua in realtà è un po' vabbè qua è messo un po' male come dicevo è molto difficile da rappresentare troviamo quello dei vani eh il mondo dei vani e quello dei giganti si pone come rappresentazione della creazione della creazione e della distruzione i vani sono gli dei della fertilità dell'abbondanza e quindi hanno a che fare con una magia che dà i suoi risultati nel nostro mondo invece i giganti sono i giganti delle montagne o delle rocce sono considerati elementi caotici che di contro portano alla distruzione ehm il nostro mondo in cui viviamo eh non ho detto prima ovviamente del del binomio tra Muspel e Niferem che è tra ghiaccio eh tra fuoco e ghiaccio oppure eh tra caldo e freddo comunque questo questa introduzione è necessaria perché perché quando si parla di magia nella tradizione norrene germanica eh ovviamente bisogna partire dal da questo punto di partenza che l'operatore magico eh utilizza questi mondi sia andandoci in spirito ma soprattutto eh con il rituale per attirare le energie provenienti da questi mondi e eh si è evidente che le energie di musperi e Medineferim che sono i mondi più antichi più eh inarrivabili per un mero mortale sono quasi non si possono raggiungere solo Odino ci riesce e talvolta Loki eh invece vediamo che il mondo dei vani ovviamente è piena disposizione degli esseri umani per i riti della fertilità e dell'abbondanza e della ricchezza eh i mondi degli elfi chiari e degli elfi scuri sono particolari come vedremo perché quello degli elfi chiari ha a che fare con il culto degli antenati e quindi vedremo in che senso viene utilizzato per la magia familiare clanica eh invece il mondo dei dei giganti quello più oscuro diciamo viene utilizzato soprattutto da quelle che noi possiamo chiamare streghe o comunque maghi neri stregoni ecco per usare un termine ombrello che ci consenta di perché praticamente queste sono delle energie appunto distruttrici e che vengono utilizzate per esempio vedremo per un esempio dopo con la magia delle tempeste la magia meteorologica per distruggere i raccolti ecco notiamo subito questa cosa che in realtà l'utilizzo della magia distruttiva dei giganti è strettamente connessa con quella dei vani perché come abbiamo detto sono eh i due i due punti dicotomici di una stessa retta allo stesso modo eh quello degli elfi chiari e degli elfi scuri pur uniti e via dicendo quindi vediamo che la conoscenza della magia la conoscenza delle forze sacre che permeano l'universo in realtà si si può di si può vedere come una conoscenza delle coppie dicotomiche da qui nasce la capacità del mago di eh attrarre forze da questi mondi e poi metterle metterle in gioco bene ottimo direi quindi allora intanto io ringrazio tutti quelli che sono connessi ora se avete delle domande come al solito le potete fare qua nei commenti eh vorrei appunto soffermi iniziare a soffermarmi su un argomento diviso in due domande riguardo la magia magia odinica partendo proprio innanzitutto con descriverci cos'è la magia odinica e eh della sapienza occulta legata appunto a questo tipo di magia benissimo dunque dopo questa introduzione diciamo innanzitutto subito una cosa le divinità del panteon norreno che più fanno uso della magia sono tre odino o vota nei popoli germanici la dea freia per gli dei vani e poi c'è l'occhi che un'entità strana che pur appartenendo alla fazione degli asi è molto oscura come figure vedremo anche in che senso e eh in che modo agisce la sua magia che è duplice più anche quella di odino e di freia è duplice però quella di l'occhi maggiormente ehm come hanno fatto notare diversi studiosi tra cui anche Gianna Chiesi e Snardi non è facile ehm dividere con l'accetta magia odinica e magia di freia vanica perché effettivamente si dice nel mito norreno che freia insegnò la magia agli asi quando in seguito alla guerra cosmica tra le due fazioni divine freia venne accolta nell'ambito eh appunto eh appunto aesico degli aesir e quindi eh portò loro la conoscenza di un certo tipo di magia che si chi si chi si chiama Seidr e poi vedremo meglio di che tipo di magia si tratta si può dire però se vogliamo fare una semplificazione che però hm non è sbagliata che la magia odinica ha più a che fare con l'estasi anche studiosi come Gianna Chiesi e Snardi appunto eh fondano questa concezione della magia odinica sulla ricerca della visione sulla ricerca dello stato di estasi eh ed è soprattutto un mito che riguarda Odino che ci spiega bene questo concetto ovvero il modo in cui Odino si appende all'igdrasil all'albero cosmico per nove giorni e nove notti ora già numerologicamente il nove è numero sacro nelle tradizioni sciamaniche siberiane e ugrofiniche quindi vediamo che anche qui in realtà c'è un'influenza di questo tipo di tradizioni sciamaniche non solo nella magia dei vani eh e di freia eh innanzitutto il gesto di appendersi a testa in giù che è diverso dall'impiccarsi all'albero cosmico eh Odino viene detto nel nel testo a noi giunto Odino si eh si sacrifica eh lui stesso a lui stesso cioè una specie di sacrificio verso una sorta di doppio più elevato che però è dentro di lui è sempre Odino e questo hm questo gesto questo rituale ricorda effettivamente alcuni rituali sciamanici oppure di popolazione di come quelle del nord America pensiamo alla alla danza del sole in cui appunto eh il l'iniziato o l'iniziando si appende a questo albero centrale a questo palo centrale eh con questi là con questi ganci che gli strappano la pelle mentre lui danza e a queste visioni eh appunto degli dei eh quindi ci sono sicuramente delle influenze sciamaniche eurasiatiche anche nell'ambito della magia degli esi degli asi e qui appunto vediamo capiamo capiamo un senso del mito perché si dice che prima della guerra cosmica e dell'unione tra asi e vani non esisteva la magia nel mondo degli asi e questo perché perché semplicemente eh se vogliamo dirla in maniera un po' brusca stavano lì in alto lì in alto all'albero cosmico non scendevano negli altri mondi non interagivano con gli altri mondi e sono in seguito alla guerra cosmica che con un nuovo ciclo del del cosmo norreno appunto eh gli asi necessitano di questo tipo di magia per interagire con gli altri mondi quindi col mondo dei vani col mondo dei giganti col mondo degli elfi chiari e dei nani scuri eh e con questo gesto di con questa iniziazione eh Odino eh secondo il mito conquista le rune che sono appunto i simboli della realtà gli archetipi della realtà e dei nove mondi quindi Odino conoscendo questi simboli con questo eh suo autosacrificio conosce di rimando tutti i modi in cui può interagire sottilmente con il resto dei mondi e oltre alle rune con questo autosacrificio lui conquista i canti sacri ecco questo è un altro elemento importantissimo perché i simboli le rune e i canti cioè i suoni sacri che permettono all'operatore magico di entrare in contatto con eh questi flussi divini sono strettamente connessi e non solo nella maggior dinica ma anche in quella di Freya come vedremo dopo eh però se adesso vogliamo fare un quadro di insieme della magia o di che non possiamo dimenticare eh altri miti che riguardano la conquista della sapienza occulta da parte di Odino con azioni magiche eh abbiamo già nominato l'autosacrificio sul Ligdrasil ma altrettanto importante è il viaggio che Odino fa nel mondo di Mimir presso la fonte di Mimir. Mimir è un gigante primordiale eh che fa parte dei giganti del ghiaccio quindi eh è veramente difficile da raggiungere questo suo mondo e nel mito ci riesce solo Odino appunto. Odino giunge a questa fonte eh abissale profonda che si trova sotto le radici dell'albero cosmico e guadagna eh la conoscenza anche qui magica e soprattutto guadagna la memoria Mimir appunto come il nome del suo detentore bevendo da questa fonte sacra del gigante primordiale e per far ciò deve sacrificare l'occhio quindi come la sacrificava a se stesso a se stesso qui sacrifica il suo occhio per guadagnare cosa? questa memoria che in realtà è una è una vista sottile è una seconda vista questo è un topos che ritorna sempre nelle tradizioni indoeuropee diciamo io dico menziono sempre l'esempio di Tiresia per esempio nella tradizione greca ma si potrebbero fare veramente tanti esempi per far da breve questo occhio sacrificato questo occhio ordinario diciamo essendo sacrificato e quindi reso sacro secondo l'etimologia latina presso la fonte di Mimir la fonte della memoria sacra appunto consente a Odino di guadagnare questa memoria questa memoria viene definita dagli studiosi e dal mito norreno non semplicemente come un ricordo di qualcosa che è avvenuto ma come la conoscenza sacra delle origini quella che alle origini del cosmo eh detenevano solo i giganti primordiali soprattutto appunto Mimir che sembra una sorta di capo dei giganti di ghiaccio eh oppure Surt che vedremo meglio poi nel nostro corso chiuso essendo eh il capostipide dei giganti di fuoco è ancora più primordiale rispetto a quelli del ghiaccio un terzo mito che eh ci parla di come Odino guadagnò la sapienza sacra grazie a delle azioni magiche è il furto dell'idromele che detenevano ancora una volta i giganti eh in questo mito noi notiamo come la magia utilizzata da Odino in realtà abbia diversi 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 corrispondenti con quella utilizzata da Freya quindi quella dei vani infatti Odino in questo mito prende la forma prima di un serpente e poi di un'aquila per sottrarre l'idromele ai giganti e questo è un tipico topos che troviamo nelle tradizioni sciamaniche in cui lo sciamano stesso viaggiando tra i mondi per ottenere conoscenze eh ottenere spiriti alleati prende forma di diversi animali eh e addirittura e poi questo lo vedremo meglio con Freya eh si pensa che gli stessi maghi e le stesse streghe possano prendere queste forme animali nel mondo di tutti i giorni e quindi apparire eh al agli individui alle persone di questo mondo sotto queste forme animali eh effettivamente vediamo che eh questa caratteristica di poter mutare forma e viaggiare attraverso i mondi eh non differisce tra magia dei vani e magia degli 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 asi ma il motivo è sempre il medesimo il mito secondo cui la magia venne insegnata agli asi da da Freya quindi ecco anche lo stesso Loki come vedremo poi meglio quando prenderà eh altre forme diverse dalla sua si ricollegherà sempre a questo tipo di magia vanica ottimo grazie Marco come sempre per la precisione vi rinvito di nuovo a fare domande che verranno lette alla fine e eh vorrei sempre stare sulla magia odinica però riguardante un po' appunto la parte più guerresca di questo di questa divinità ecco 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 sì questo è un altro è un altro paio di maniche nel senso che in questo tipo di magia eh questo tipo di magia è mh assegnato dalla tradizione norena unicamente audino questo può sembrare strano perché effettivamente nel pantheon noreno ce ne sono diversi di eh dei della guerra diciamo così per semplificare eh Thor, Tyr però vediamo che se quest'ultimo Tyr ha delle caratteristiche eh più giuridiche se vogliamo a che fare con il patto con il con le promesse eh Thor invece ha delle caratteristiche se vogliamo più meteorologiche cioè è il dio del tuono e della pioggia in contrasto con i giganti quindi da un punto di vista eh di siccità di ehm fertilità del terreno quindi ha delle caratteristiche diverse invece vediamo che Odino come già dimostrò Giorgio Dumezil si può mettere a confronto con il vedico Varuna cioè questa divinità eh arcaica che eh secondo gli indiani dei Veda eh agisce magicamente in battaglia non semplicemente con delle armi come può essere appunto il martello di Thor o con la forza bruta ma invece con la magia eh in questo senso si può connettere Odino al Lug dei Celti eh per il quale infatti si dice lo stesso che in si dice che in battaglia chiudeva un occhio e con quest'azione riusciva a interagire eh su sugli avversari sulla sull'esito della battaglia stessa in modo magico eh di Odino ovviamente non si dice che chiude l'occhio ma che appunto ha sacrificato l'occhio presso la fonte di Mimir quindi eh è guercio Odino eh è sempre è collegato al discorso di prima nel senso che la seconda vista eh e l'occhio sacrificato agiscono anche in questo modo però è particolare perché tra questi abilità che ha Odino in battaglia eh effettivamente queste abilità hanno dei risvolti sul mondo fisico per esempio trasformano le armi degli avversari in ramoscelli oppure fa questa magia fa in modo che i colpi non vadano a segno eh fanno in modo di far scendere una nebbia sovrannaturale che fa addormentare i guerrieri avversari e via dicendo ma ancora più importante forse parlando di di magia odinica guerresca è lo stato di furor di possessione di furore eh che gli adepti di Odino della società iniziatica bellica cioè le mannerbunde dell'antica tradizione germanica che noi conosciamo fino al medioevo quantomeno questi eh guerrieri erano considerati erano chiamati guerrieri orso guerrieri lupo perché si riteneva che in questo stato di furor eh causato appunto da dal dal possesso di determinate qualità odiniche prendessero forma eh non tanto di animale ma comunque riuscissero eh a a esprimere in battaglia questa questo furor odinico che appunto legato a questi animali l'orso e il lupo ora il lupo è particolare come zofania perché si connette anche ad altri lati della magia odinica quelle più appunto estatici quelli più eh sul sulla veggenza che fanno di Odino un indovino eh ed effettivamente eh ed effettivamente queste sono caratteristiche che troviamo anche della magia dei Vani quindi di Freya la magia del Seidra eh come detto è molto difficile dividere con l'accetta magia di Odino e magia eh dei Vani ciò nonostante eh ci sono alcune alcune magie alcune tecniche magiche che utilizzano Odino e Loki eh che sono per forza derivate da Freya in quanto eh nelle fonti che ci sono giunte noi sappiamo che ehm questo tipo di tecniche magiche erano mal considerate eh nel nella società patriarcale diciamo così eh storica eh dei dei popoli germanici storici soprattutto in quelli scandinavi e quindi diciamo nel settimo secolo dopo Cristo in poi eh quindi erano vietate in qualche modo se non al veggente della comunità o del clan e e perché sappiamo che erano appartenenti alla magia vanica queste 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 tecniche perché per esempio prevedevano eh perché per esempio prevedevano eh la vestizione dell'operatore magico con abiti femminili eh oppure nell'invettiva di Loki Loki appunto eh nella Locca Senna il titolo originale Loki critica Odino per vestirsi da donna durante questi rituali e di contro Odino accusa Loki di essere così tanto eh pratico eh pratico del Seidra della magia di Ivani al punto che addirittura è riuscito a mutare forma in una donna e a partorire delle entità terribili come il lupo Fenrir come la Dea dei Mortiele come il serpente che circonda Midgard in Midgard Storm che appunto causeranno poi il Ragnarok liberandosi da questi lacci ecco però eh se parliamo del concetto di lacci dobbiamo parlare necessariamente della magia di Freya quindi questo lo lascio appunto quando parleremo eh se se vuoi anche adesso della magia dei Vani e di Freya assolutamente infatti era la prossima domanda ecco allora ancora una volta mi spiace ripetermi però è curioso vedere come in altre tradizioni indoeuropea la magia dei lacci ha a che fare anche con divinità uraniche maschili come appunto Varuna Varuna era nel panteon vedico il dio che lega e che scioglie il dio dei lacci appunto nella tradizione norena è Freya la divinità che conosce questi tipi eh di di queste tecniche magiche ora il il termine Seidra appunto con cui viene intesa la magia eh propria dei Vani di Freya soprattutto ha proprio a che fare con questo concetto di di legare di legare di legare ed è stata tradotto in vari modi vincolo corda eh laccio legame nodo eh e persino corda musicale adesso vedremo anche perché ma soprattutto viene sottolineato la relazione la corrispondenza con la tradizione a noi più prossima quella latina il concetto di fascinum che al tempo stesso un fascio di cose legate tra loro ma è anche il fascino no? che la strega l'operatore magico causa sul sulla sua vittima diciamo così legandolo a sé ora eh prima di passare al discorso della corda musicale dell'utilizzo della musica nella magia Seidra è importante sottolineare come Freya eh in questa magia dei legami dei lacci è estremamente identica a alla venere afrodite la dea mediterranea greco romana eh e non a caso infatti la magia dei lacci dei legami viene eh eh considerata ehm molto connessa a quella appunto afroditica a quella sessuale a quella della magia amorosa diciamo così perché appunto il legare a sé qualcuno il conquistare eh l'attenzione di qualcuno in questo senso eh sessuale ma anche eh appunto magico strettamente magico perché qui non si parla ovviamente solo di del piano sessuale è legato alla dea che è la dea dell'amore ma è anche la dea dell'estate. ecco questo è importante perché se nella tradizione latina greco latina eh noi troviamo due forme cioè venere afrodite e artemide diana che invece è la dea della stregoneria anche fino poi nel medioevo quindi la figura si divide in due Freya invece nella tradizione germanico norrena assurge su di sé tutte queste eh queste competenze ecco eh e abbiamo menzionato oltre alla corda la corda musicale con un con cui viene tradotto il termine seidra questo perché a differenza della mia della magia odinica che appunto abbiamo detto è fondata sull'introspezione sulla ricerca estatica della visione quella di Freya si eh quella vanica si eh caratterizza pure per l'utilizzo di di una musica eh ripetitiva ipnotica eh da cui appunto il significato di seidra non solo come corda legame laccio vincolo ma come corda musicale il suono infatti viene considerato fondamentale per legare a sé eh diciamo così l'individuo su cui si basa l'incantesimo ma anche le forze che l'operatore magico eh chiama a sé dai nove mondi del cosmo norreno ed ed effettivamente questo è un altro punto di contatto con lo sciamanesimo ugro finnico tanto è vero che tra l'altro eh eh le gli operatori magici di questo eh ambito della magia vanica sono però più femminili laddove invece gli operatori odinici sono tutti maschili e appunto come abbiamo detto l'operatore magico di sesso maschile deve travestirsi da femmina per fare questo tipo di eh di magia eh se la magia odinica è fondata sulla ricerca della della visione sul lo stato estatico invece la magia di Freya è fondata sul rituale e quindi presuppone una conoscenza eh delle per esempio delle erbe eh addirittura si parla di funghi igniferi cioè portatori di fuoco contenenti fuoco ovviamente fuoco in senso magico che eh troviamo nominate dalle fonti storiche eh alla alla cintura delle di queste indovine e eh veggenti appunto che praticavano la magia del Seidra eh oppure si parla anche dell'utilizzo della magia del Seidra appunto ai fini meteorologici quindi per causare tempeste eh per causare la pioggia e per mandare eh per rovinare i raccolti ecco sono tutte delle caratteristiche che poi noi troviamo già ancora nel medioevo in epoca eh cristiana per quanto riguarda appunto le streghe che poi verranno messe ovviamente a rogo e saranno uccise in gran numero eh inoltre la magia di Freya eh è anche fondata sull'uscita dal corpo e sull'assunzione di un doppio animale ecco e questo l'abbiamo già nominato per Odino infatti sembra una di quelle di quei reparti della magia odinica che in realtà viene preso eh viene insegnata da da Freya eh l'uscita dal corpo per accedere agli altri mondi in questo tipo di magia vanica viene utilizzata per prendere una forma animale come detto nel nostro stesso mondo quindi non su altri piani sottili e anche qui troviamo nelle fonti antiche eh una tradizione che noi troviamo praticamente in tutto l'ambito euroasiatico e europeo e via dicendo cioè il fatto che quando l'operatore magico e sciamanico prende una forma animale nel nostro mondo e subisce un colpo viene colpito da un individuo in carne e ossa questa ferita poi sarà visibile sul corpo della strega dello sciamano che anche se rimane diciamo così aletto e solo eh con l'anima diciamo così e con l'anima sottile in realtà è la filgiul cioè il doppio invisibile esce dal corpo però il colpo ricevuto poi quando l'anima rientra nel corpo lo ritroviamo anche sulla persona stessa e questo è molto interessante perché fino addirittura alla fine dell'ottocento noi troviamo delle testimonianze storiche in Svezia in Finlandia e Norvegia in cui si parla di persone che erano state accusate appunto o di licantropia o di stregoneria e appunto le hanno individuati proprio con questa metodologia quindi questo è uno dei tanti esempi che nel corso vedremo meglio come ehm i miti antichi della tradizione nordica in realtà li ritroviamo nella superstizione diciamo così in termini in maniera molto imprecisa o nel folclore migliore cioè nella conoscenza del popolo eh anche fino in epoca quasi contemporanea sicuramente in epoca moderna bene ottimo allora intanto voglio ringraziare stanno arrivando delle domande molto molto interessanti che leggeremo in chiusura dato che l'abbiamo citata all'inizio di questa conferenza vorrei che ora ci parlassi un po' della figura di Loki invece molto importante ecco Loki come già anticipato è probabilmente il personaggio più poliedrico del pantheon nordico in quanto sembra essere tutto il contrario di tutto ma questo ha una sua precisa funzione nella tradizione nordica come personaggio abbiamo detto che appartiene agli asi quindi agli dei uranici però è figlio di giganti cosa che di giganti primordiali cosa che d'altronde condivide con Odino questo è curioso perché i due dei asi che compiono atti magici sono effettivamente figli di giganti hanno contatti con i vani quindi vediamo che non sono degli asi puri come poi sono tutti gli altri perché sono figli di Odino quindi Thor, Tyr e tutti gli altri e mi dare via dicendo ora Loki come hanno fatto notare studiosi appunto del calibro della Gianna Chiesi Snardi ha questo lato duplice per ogni azione che compie di solito è colui che porta il mondo degli dei e di conseguenza quello degli uomini verso una situazione di caos di disordine però al tempo stesso è anche lui che con i suoi atti magici con la sua astuzia con la sua mente contorta diciamo così che è un termine che è un termine che viene usato anche nella tradizione greca con riguardo a prometeo e personaggi mitici che sono stati connessi a Loki poi vedremo un attimo anche meglio perché riesce appunto a portare quelle situazioni che lui stesso aveva delle situazioni in cui lui stesso aveva causato disequilibrio a uno stato di equilibrio iniziale ora Loki viene l'etimologia del nome viene interpretata in più maniere la si collega al fuoco logi e in questo senso viene connesso appunto anche a prometeo che nel mito greco è colui che si ribellò agli dei per portare questo fuoco agli uomini ovviamente è un fuoco sottile non è il fuoco comune però nel caso di Loki questo fuoco come abbiamo detto può essere sia costruttivo che distruttivo il fuoco di Loki costruisce e porta all'esistenza oggetti magici nel suo ruolo di carpentiere di artigiano degli dei infatti è Loki stesso oltre a figure come per esempio gli soprattutto gli elfi scuri o gli gnomi o nani che creano questi oggetti magici che poi vengono regalati agli dei oppure rubati appunto tramite Loki o Odino e poi gli dei li utilizzano però dal punto di vista distrutti questo fuoco ha appunto anche un lato distruttivo che è quello di cui dicevamo prima Loki oltre a creare oltre a essere l'artigiano degli dei è anche colui che distrugge che crea delle situazioni diciamo così di lotta di disturbo tra i vari dei è lui per esempio che rapisce Idun che è la dea che possiede le mele d'oro che danno agli dei l'immortalità è lui che rapisce Sif con i capelli d'oro moglie di Thor e anche qui c'è un simbolismo sempre di abbondanza fertilità e sterilità appunto quando Loki interviene o ancora soprattutto è Loki che uccide Baldr il figlio prediletto di Odino causando la sua con questo inganno la sua di partita e la sua discesa ad El cioè al regno dei morti e così darà inizio alla decadenza del cosmo norreno che poi troverà un termine solo con Ragnarok con il crepuscolo degli dei Loki utilizza quindi questa magia per causare dei danni agli altri dei per creare zizzania diciamo così e non a caso è stato paragonato in questo sebbene sia una figura semitica a Satan al diavolo perché come sappiamo etimologicamente Satan il diavolo è colui anche in greco di Abolus è colui che divide è colui che separa colui che crea delle situazioni che appunto distruggono l'equilibrio che si era raggiunto inoltre ci sono diversi miti che legano Loki a queste figure diaboliche demoniache diciamo così appunto dopo l'uccisione di Baldr con questa astuzia Loki viene legato sottoterra quindi in un mondo diciamo così infernale o sotterraneo comunque in questa grotta in cui un serpente gli fa cadere sulla testa una goccia di veleno ogni istante che passa e così Loki rimarrà legato fino alla fine del ciclo cosmico si libererà appunto solo con il Ragnarok se apparentemente questi miti sembrano non centrare nulla con la magia invece tutto il mito nordico è fondato sull'utilizzo di tecniche magiche per esempio Loki viene legato dagli dei con delle tecniche appunto magiche così come vengono legati i suoi figli Fenrir il serpente di Midgard e vengono legati viene detto grazie poi all'azione degli degli elfi scuri cioè degli ignomi o dei nani unendo una serie di elementi che in natura non esistono tipo adesso cito a memoria il rumore dei passi di un gatto tutte queste cose che non esistono nel mondo in cui viviamo quindi ecco noi ritroviamo in almito nordico a tutti i livelli l'utilizzo di una magia da parte degli dei che l'operatore magico conoscendo questi miti e conoscendo anche le varie parti in causa poi può utilizzare in prima persona ma tra tutte le varie cose che si può dire di Loki vabbè a parte che è muta forma per eccellenza prende anche quando uccide Baldr lui prende la forma di vari animali prima che gli dei lo appunto lo arrestino e lo mettono in questo grotta sotterranea fino a Ragnarok ma soprattutto è l'inventore della rete da pesca e questo è curioso perché da una parte per il discorso della magia dei vincoli dei legami ci si aspetterebbe che sia Freya l'inventrice della rete della rete da pesca e invece è Loki anche perché oltre ad essere considerato proprietario della magia dei legami e dei lacci è anche il dio della navigazione il dio dei carpentieri quindi in realtà tutto l'ambito della costruzione della nave e addirittura della conoscenza dei venti e delle delle correnti marine in realtà si pensa che abbia a che fare con questa conoscenza perché si parla sempre di legare e slegare le onde i venti le nubi ecco vediamo quindi che anche elementi che si pensa si può pensare siano unicamente meteorologici o naturalistici come appunto i venti le piogge eccetera in tutto il mito onorreno e poi nello stesso folklore sono strettamente interconnessi con la loro concezione magica e con l'azione che gli stessi dei Nillo Tempore compiono appunto nei miti che ci sono giunti grazie Marco stanno continuando ad arrivarci delle domande quindi abbiamo l'ultima delle nostre e poi inizieremo un po' a vedere insomma tutto quello che vogliono sapere coloro che ci seguono vorrei che mi parlassi della magia familiare e delle entità sovranaturali connesse a questo tipo di magia dunque abbiamo già nominato molte di queste entità abbiamo già mostrato come appartengono a vari mondi dei nove mondi del cosmo onorreno c'è il mondo degli alfi chiari il mondo degli alfi scuri e il mondo dei giganti di roccia o delle montagne in quanto quelli di fuoco e di ghiaccio sono considerati anti dei primordiali ecco diciamo così più antichi degli asi e dei vani ma non si possono raggiungere con le tecniche magiche sciamaniche quindi sono queste tre categorie che abbiamo detto quelle con cui l'operatore magico può entrare in contatto sono effettivamente delle figure molto complesse anche perché quando noi parliamo di elfi per esempio dovremmo anche parlare di disir che sono la versione femminile degli degli elfi chiari oppure dobbiamo parlare delle valchirie che sono molto simili alle disir dovremmo parlare delle norne infatti poi diremo anche qualcosa su loro quello che ci è giunto tramite le fonti del periodo sempre quello dall'undicesimo dodicesimo secolo è la conoscenza di due rituali clanici o familiari che esistevano nel mondo norreno e che sembrano essere molto antichi in realtà sembrano avere a che fare con un tipo di culto familiare clanico quindi qui non si parla di potenze divine a livello degli dei asi ma neanche degli dei vani si parla di spiriti della stirpe di antenati spiriti degli antenati della stirpe quello che nella tradizione induista vedica sono i pitri cioè gli antenati divinizzati ora questi due cerimoniali che venivano compiuti in periodi particolari dell'anno soprattutto il primo dei due nell'autunno appena prima dell'inverno che è il periodo in cui ancora adesso si celebra la festa dei morti la Samhain ora Halloween che deriva dai Celti e via dicendo è la celebrazione degli alfar quella che invece lo segue di qualche mese in primavera è quella della celebrazione delle disir cioè alfablot e disiblot ora queste due entità sovrannaturali vanno di pari passo in quanto gli alfar o elfi chiari sono considerati gli spiriti degli antenati maschili della stirpe le disir invece sono considerate gli spiriti delle antenate femminili della stirpe ovviamente come accadeva poi nel mondo latino quindi romano che noi conosciamo appunto gli dei Mani, gli dei Lari questi sono culti che si compievano tra le mura domestiche ed erano accettati solo appunto membri familiari, clanici della famiglia del clan e infatti dalle fonti che ci sono giunte sappiamo che anche i eroi del calibro di Sigurd sono stati cacciati quando hanno provato a accedere a delle case in cui si compievano questi rituali quindi vediamo che sono a differenza di altri tipi di culti più istituzionali diciamo come quelli del tempio di Uppsala con la triade Thor, Odino, Thor e Freyr qua invece vediamo che sono rituali che compiono unicamente i membri della famiglia ovviamente i membri maschili compiono il rituale per gli alfar e i membri femminili compiono quello per le desir in che modo questo si lega al di là di una devozione per gli antenati, per i morti eccetera in che modo si lega alla concezione di anima, di anime sottili perché in realtà sono più di una dei norreni perché come nelle tradizioni già appunto indoeuropee come quella indiana, quella romana e via dicendo in realtà questi spiriti degli antenati sono considerati iniziatori dei loro discendenti quindi magari appaiono in sogno oppure appaiono in alcune visioni e manifestano la loro esistenza in questo mondo degli antenati appunto il mondo degli elfi chiari, elfeimer le desir appunto abbiamo detto sono l'equivalente femminile degli alfar però non abbiamo un mondo specifico tra i nove del cosmo norreno per le desir da cui si capisce che probabilmente sono nello stesso mondo degli alfar cambiando solo il genere tra i due invece quanto riguarda gli elfi scuri o i nani o gli gnomi sono una cosa molto diversa perché non hanno a che fare con gli spiriti degli antenati ma hanno a che fare con gli elementi si potrebbe dire microscopici o comunque gli elementi sotterranei, ictonei ma non solo in senso naturale, minerario proprio nel senso di come dire una sorta di piano del reale infinitesimale che è contenuto nel nostro come i piani superiori, quelli degli dei sono, si possono vedere come ovviamente sono sottili però come più ampi dei nostri quelli sotterranei sono più piccoli più, sono contenuti nel nostro e da qui appunto l'idea che gli elfi scuri o gnomi il termine originale è dvergar siano i responsabili di tutti quei quei procedimenti quei processi naturali come quelli che portano a compimento le gemme le pietre preziosi all'interno della roccia i filoni dell'oro e tutto questo si lega anche in senso alchemico ovviamente sappiamo bene che anche nell'ermetismo nell'alchimia queste entità vengono considerate come elementali spiriti elementali e ovviamente nella dottrina ermetica persino gli elfi che sono considerati come l'equivalente degli gnomi però a livello di elemento aria qui invece nel mito nordico vediamo una cosa un po' diversa come detto gli elfi chiari sono considerati spiriti degli antenati e non sono considerati elementi elementali spiriti elementali in stritto senso ma solo in quanto connessi alla famiglia al clan e poi solo se appunto onorati con i determinati riti portano una conseguenza sui raccolti sull'abbondanza le entità veramente elementali sono i dvergar cioè gli gnomi gli elfi scuri e appunto questi giganti di Jotun che sono i giganti delle rocce o delle montagne anche qui è molto difficile tagliare con l'accetta questi due tipi di entità anche se in realtà hanno i due loro mondi ognuno il proprio anche se sono strettamente sono anche vicini nell'albero cosmico nella raffigurazione che si trova di solito e alcuni autori hanno fatto notare come gnomi e giganti effettivamente spesso in varie tradizioni ricoprono questo ruolo condiviso che ha a che fare appunto con il procedimento del sottoterra actonio della produzione dei metalli o anche con le forze caotiche dell'universo e tra l'altro anche in vari miti e anche in varie testimonianze folcloriche viene spesso menzionato il fatto che gli gnomi e i giganti potrebbero essere quasi la stessa famiglia in quanto queste entità sovrannaturali quando entrano in contatto con l'essere umano si dice loro stessi dicono che possono apparire o grandi o piccoli a seconda di di come desiderano loro questo in realtà è un bel mistero perché sembra effettivamente che questi giganti delle montagne o delle rocce abbiano appunto più punti in comune con il dvergar cioè con gli gnomi piuttosto che con quei giganti primordiali del fuoco e del ghiaccio che invece sono irraggiungibili attraverso le tecniche magiche o comunque sono quasi è molto difficile diciamo non esistono delle fonti che ci sono giunte che parlano dell'utilizzo a fini magici o sciamanici di questo tipo di entità il solo Odino riesce a raggiungerli per finire questa panoramica vanno fatte due parole su altre tre tipi di entità sottili che cercherò veramente di ridurre al minimo le valchirie che spesso vengono anche messe in relazione con le filjur le valchirie sono degli spiriti femminili anche qui connessi non solo alla stirpe al clan ma a quella che viene chiamata l'anima esterna e le filjur singolare filja ha punti di contatto nel senso che viene sia considerata il doppio il doppelganger cioè quello spirito dalla forma dello stesso la stessa persona che lo invoca o che lo evoca o che gli appare ma al tempo stesso è anche una sorta di spirito iniziatore che può prendere una forma femminile gli studi di folklore in realtà legano queste figure femminili a una sorta di seconda anima una sorta di anima più sottile che appunto viaggia negli altri mondi prendendo la forma animale o la forma della sposa sovranaturale o della valchiria e viene anche connessa alla placenta infatti da qui la tradizione secondo cui la credenza secondo cui chi nasce avvolto nella camicia amniotica cioè nella placenta nasce con delle doti magiche sciamaniche proprio perché viene considerato del tutto avvolto nella sua filgia nella sua anima esterna per questo appunto filgiur e valchirie sono connesse le valchirie ecco sono come delle filgiur che agiscono in battaglia e poi per portare l'anima del morto in battaglia nella varalla quindi nel mondo sovrannaturale di Odino oppure nel mondo sovrannaturale di Freya perché anche qui vediamo che la divisione dei morti in battaglia viene tra Odino e Freya che sono i due dei della magia è curioso no? vediamo anche qui come anche nell'ambito bellico e guerresco ci sono sempre queste due divinità che si spartiscono le anime vicino alle desir e alle valchirie ma soprattutto alle desir sono anche le norne tanto è vero che sono considerate le dee del destino ovviamente simili alle parche alle moire greco-romane di questo parleremo molto meglio nel corso ci sono i ragionamenti un po' complessi che qui non abbiamo tempo di fare però le norne ecco sembrerebbero delle desir cioè delle entità tutelari del destino che però non riguardano unicamente la stirpe o l'individuo ma riguardano proprio il cosmo intero tanto è vero che lo stesso odino in qualche modo è sottomesso al volere tra virgolette delle norne non si tratta di un vero volere in realtà si tratta di quella che viene menzionata viene chiamata la rete del weird o del destino weird è questo termine antico norreno che poi si tratta quella y che poi diventa l'inglese attuale weird si parla anche qui di una rete formata da tutti questi legami tutte queste entità sovrannaturali in realtà fanno parte di questa rete tutte quelle che abbiamo menzionato a più livelli della creazione quindi a livello superiore uranico a livello nel mondo di Midgard a livello sotterraneo tra virgolette cioè microscopico diciamo così che hanno a che fare con gli antenati della stirpe per concludere questa panoramica che ho provato a rendere il più breve possibile vanno menzionate anche un altro tipo di entità che in realtà sono quelle con cui più facilmente l'uomo norreno entra in contatto cioè i land vaettir questi sono gli spiriti dei luoghi quindi sono quegli spiriti che si credeva dimorassero in alcuni luoghi naturali specifici che avevano una rilevanza sacra ovviamente perché l'antica religione i germani con orrena non conosceva templi ovviamente veniva i riti venivano compiuti a parte quelli domestici di cui abbiamo già parlato nei boschi in luoghi carichi di energia sacra i land vaettir sono appunto questi spiriti dei luoghi tuttavia anche qui spesso il limite la distanza tra questo tipo di entità e altre come appunto gli elfi soprattutto gli alfar e le disir cioè gli elfi femminili diciamo è molto labile nel senso che spesso i land vaettir gli spiriti dei luoghi naturali si invocano si evocano scusate in alcuni luoghi specifici tipo i tumuli dell'età del ferro addirittura del neolitico costruzioni megalitiche appartenenti a un passato molto arcaico quindi vediamo che sono delle sepolture fondamentalmente che però venivano anche utilizzati nel rituale e vediamo che spesso appunto lo spirito del luogo in realtà se si va a indagare non è altro che un antenato che è stato lì seppellito o più antenati quindi in realtà gli spiriti dei luoghi e gli alfar in quanto o le disir in quanto antenati della stirpe anche qui la distinzione è molto labile io credo dalle poche fonti che ci sono giunte che il rituale per i landvettir magari si utilizzasse quando bisognava interagire su una dimensione più naturale quindi anche qui di raccolti di motivi meteorologici per esempio invece l'evocazione degli elfi e delle disir era compiuta in un ambito appunto familiare quindi che aveva più a che fare con la stirpe clanica col destino singolo di individui di queste stirpe bene grazie Marco veramente per la chiarezza espositiva come sempre grazie a te Mattino allora è arrivato il momento adesso di vedere qualche domanda da coloro appunto che ci seguono la prima che ti voglio portare è di Emanuele che ci chiede i guerrieri orso e lupo avevano o hanno avuto analogie in altre civiltà e culture assolutamente sì quando si parla di questo tipo di guerrieri intimamente connessi a un archetipo di zoofanico cioè di forma animale di determinati fiere belve come appunto l'orso il lupo ma anche non so in altri ambiti geografici adesso dirò due parole le tigre i giaguari i grandi felini insomma si ha sempre a che fare con delle confraternite iniziatiche maschili che sono anche guerriere certo ma non sono solamente guerriere erano anche statiche cioè queste confraternite erano fondavano la propria iniziazione su rituali iniziatici di tipo estatico quindi volti al raggiungimento di uno stato appunto non meramente guerresco non meramente di furor bellico ci sono vari esempi che si possono fare per esempio gli erpi sorani poi diventano nella tradizione romana nella società romana perché sono italici pre-romani diventano i sacerdoti del dio sorano sul monte soratte che è una anche qui è una versione di Apollo oscuro legato al lupo legato a questo archetipo del lupo come animale distruttore ora è curioso perché il lupo lo troviamo appunto sia nell'ambito germanico non reno connesso odino sia nell'ambito greco italico greco connesso ad Apollo anche il corvo è sacro di entrambi gli dei e inoltre il corvo e il lupo manifestano determinate qualifiche archetipiche che hanno a che fare con la veggenza con la conoscenza del futuro dei piani sottili che Apollo come odino appunto ricoprono quindi ecco queste sono delle società iniziatiche maschili che non hanno solo a che fare con la guerra e con il furor bellico addirittura nella tradizione indopersiana troviamo una categoria confraternita iniziatica che viene menzionata con questo termine i lupi della Oma ora la Oma è questo è l'equivalente della Soma degli indiani vedici ed è questa sostanza bevanda che nel mito gli iniziati ma prima ancora gli dei bevevano per raggiungere la conoscenza sacra quella conoscenza delle origini ed è lo stesso dell'idromele nel mito onorreno quindi c'è sempre un elemento estatico di ricerca di uno stato ulteriore anche nella tradizione indopersiana si dice che questi così chiamati lupi della Oma guadagnavano questo stato di furor che era connesso tra l'altro anche con il dominio sul fuoco che è una qualità prettamente sciamanica che troviamo ancora nell'Europa orientale in determinate zone quindi camminare sui carboni ardenti comparazioni di questo tipo e come detto questo tipo di confraterniti iniziati che appunto prevedono non la trasformazione in senso tecnico ma il possedimento dell'anima di quel tipo di animale feroce li troviamo in tutto il mondo in realtà negli antichi popoli precolumbiani sono legati al puma al giaguaro a questo tipo di grossi felini nell'india non vedica ma precedente nell'india dravidica nell'india delle popolazioni più arcaiche quelle delle colline quindi dell'india orientale nord orientale sono si parla di uomini tigri di tigri mannare quindi vediamo che ci sono sempre queste confraternite iniziatiche e in realtà la forma animale o meglio lo spirito animale che possiedono o da cui sono posseduti muta a seconda dell'area geografica e soprattutto dell'impostazione culturale ma c'è sempre questo archetipo della belva feroce che però non viene visto solo come una cosa demoniaca passami il termine come magari poi nel medioevo con l'alicantropia infatti io sospetto che il fenomeno dell'alicantropia che sembra così assurdo da studiare con l'occhio moderno con l'occhio razionalista in realtà sia come una specie di residuo psichico di queste antiche iniziazioni che passano attraverso le linee di sangue e ovviamente è un'ipotesi impossibile da dimostrare però è curioso notare come anche non solo nel mondo occidentale ma anche per esempio in india o in altri posti del mondo anche in epoca contemporanea ogni tanto si sente di persone che si pensa che siano possedute da questi spiriti animali selvaggi appunto che iniziano magari ad aggredire le persone a sbranarle addirittura ecco quello che c'è da sottolineare è che nell'antichità come detto non avevano solo un ruolo distruttivo e demoniaco e quindi come accade magari adesso una persona che viene individuata con questa patologia perché oggi si parla di patologia spesso in quelle situazioni tribali viene messo a morte pensiamo al caso del Wendigo nelle popolazioni del subartico americano queste persone che vengono appunto possedute dallo spirito del Wendigo e diventano cannibali in realtà nel mondo arcaico si pensava che questi guerrieri queste confraternite guerriere possedute dallo spirito delle belve avessero il compito appunto di arginare i lati più estremi e più violenti della società anche solo con la loro presenza e quindi è particolare il fatto che noi li ritroviamo a livello di folklore in tutti i rituali di fine anno quando noi vediamo i Krampus questi uomini o i mammutones sardi ci sono tutte queste è come dire che sono passati al piano del folklore ecco prima erano una confraternita di esseri umani in carne e ossa che prendevano poi forma in questi rituali di fine anno delle entità demoniache diciamo così oggi rimane solo quella quella parte del di questa tradizione diciamo così più visuale più cerimoniale ma senza essere rituale ecco diciamo così delle feste di fine anno carnevalesche però non esiste più ovviamente la confraternita maschile guerriera che c'era una volta bello come sempre un miliardo di parallelismi grazie Marco allora la prossima domanda invece da Luca Rodolfi ci chiede esiste un iter iniziatico per poter diventare berserker ossia esistono collegamenti tra tale indole e particolari correnti rituali in base a quanto detto prima appunto in relazione anche all'ultima domanda sì certo allora sì evidentemente essendo nell'ambito della magia odinica perché ovviamente è Odino che è considerato il dio tutelare degli uomini degli uomini dei guerrieri Olso e dei guerrieri Lupo in quanto ovviamente abbiamo già detto del ruolo magico nell'ambito guerresco di Odino effettivamente anche il modo in cui questi individui conquistavano questo potere è sempre quello che abbiamo menzionato prima cioè la ricerca della visione quella che viene chiamata così anche tra i nativi americani tra i nativi siberiani cioè una fuga dell'individuo dalla società civile e una fuga nei boschi soprattutto quindi nell'elemento naturale più ostile diciamo anche qui per rispondere a questa domanda bisogna avere in mente quanto appena detto sulle mannerbund iniziati che cioè l'ottenimento di questi poteri di questo modo di essere è strettamente ok rietualizzato questo sì nell'ambito collettivo però c'è una la distinzione dalla società civile dal dal resto del clan e del villaggio stesso deve venire da dentro deve l'individuo ci si deve avvicinare tramite delle visioni tramite dei sogni magari anche qui non è non appare tanto un un antenato come nel caso dei di quanto abbiamo detto prima sulle desir sugli elfi ma appare Odino stesso solitamente o se non appare Odino stesso appare un antenato che è anche lui era considerato iniziato odinico e che appare come Odino e poi si manifesta come invece un antenato della stirpe questo è interessante perché ancora una volta in tutto l'ambito indoeuropeo effettivamente il dio interagisce con l'individuo tramite una linea di sangue e anche spirituale che spesso passa nel caso dei rituali iniziatici come questo tipo delle mandarbunde maschili tramite la parte maschile dell'arbro genealogico invece per quanto riguarda le entità femminili come le desir o la filgiur tramite l'elemento femminile però sì direi che ovviamente c'è anche questa è un'altra cosa da dire che per guadagnare questo stato di guerriero lupo o di guerriero orso oltre all' uscire dalla società a passare del tempo da soli in questi boschi o luoghi naturali c'era anche qui l'assunzione di sostanze psicotrope si pensa o amanita muscaria oppure funghi di tipo psilocibinico questa è un'altra cosa particolare perché effettivamente noi riconosciamo l'utilizzo di funghi di questo tipo legati alla magia di Freya quindi alla magia dei vani e molti la collegano alla magia dei popoli ugrofinnici tuttavia se da una parte si può vedere effettivamente l'orso come animale totemico di società arcaiche di questo tipo quindi non tanto indoeuropee quanto paleomongole quindi ugrofiniche e anche dell'America del subartico che consideravano appunto l'orso come l'antenato sciamano della stirpa una cosa un po' particolare effettivamente però nel periodo storico noi sappiamo che l'orso diventa sacro a questo tipo di confraternite iniziatiche maschili in un ambito prettamente indoeuropeo tanto è vero che ancora nel periodo moderno o comunque premoderno cristiano diciamo noi sappiamo che per la conquista per la diciamo sia la conquista cristiana della Francia e dell'Inghilterra Carlo Magno ha portato addirittura all'estinzione l'orso questa è una cosa particolare perché era considerato animale totemico di quei guerrieri di quelle stirpe guerresche che detenevano il potere diciamo così religioso ma anche ovviamente tramite la religione anche sui clan sulle assemblee paesane quindi ecco vediamo come in realtà questo questo archetipo dell'orso come iniziatore sciamanico ma anche come poi spirito guerresco bellico io non so dire se passa effettivamente da un ambito arcaico paleomongolo a uno più recente indoeuropeo o proto indoeuropeo sta di fatto che lo ritroviamo spesso con caratteristiche simili come simbolismo forse se si può trovare una differenza si può vedere come nell'ambito più recente quindi europeo sono più in rilievo queste caratteristiche della guerra quindi dell'utilizzo di questo spirito ai fini guerreschi e meno a fini invece sciamanici a fine estatici come invece era più evidente nelle popolazioni paleomongole quindi sia siberiane del subaltico americano bene grazie allora io chiuderei con l'ultima domanda unendone un paio diciamo perché ci viene chiesto da Gregorio Bianchi come mai secondo secondo te Marco la tradizione norena ricopre ad esempio un così grande interesse in Italia e la ricollega un'altra domanda di Luca Rodolfi che ci chiedeva secondo me possono stare bene insieme la differenza che hai riscontrato appunto tra la cultura greco-romana intesa più come pagana e quella nordico-europea doppia domanda che sono piuttosto vicine tra di loro tanto ti metto allora sì la prima parte della domanda è molto semplice anche dal punto di vista storico proprio genetico nel senso che ovviamente noi sappiamo che la tradizione sacra religiosa pre-cristiana italiana di solito appunto vengono menzionati i romani i greci gli etruschi ma in realtà le popolazioni italiche uno erano tantissime e molte si pensa gli studi più recenti che già avessero degli elementi di tipo germanico anche delle culture molto antiche quindi protostoriche o preistoriche addirittura ma è soprattutto dopo il crollo dell'impero romano che effettivamente in Italia si assiste alla discesa di popoli germanici soprattutto longobarvi che effettivamente questa è una cosa che fino a qualche decennio fa non era conosciuta a questo livello effettivamente hanno come dire hanno portato una nuova ondata genetica diciamo così che ha ha un po' cambiato la genetica del popolo italiano in quei secoli che vanno appunto in quei secoli medievali più dell'alto medioevo quelli più oscuri di cui non abbiamo grandi testimonianze storiche però vediamo che lo stesso diritto lo stesso la stessa legge le stesse costituzioni ecco le prime costituzioni quelle che noi troviamo appunto durante i secoli medievali sono fondate oltre che sul diritto romano anche sul diritto germanico questo lo sappiamo bene perché ci sono varie vari punti di differenza tra le due e questo tra l'altro piccola parentesi da chi ha studiato anche giurisprudenza è quello che noi vediamo oggi la differenza dei sistemi legislativi e giudiziari dell'Europa continentale quelli invece anglosassoni per dire come rimanga ancora questa cosa ancora oggi ma effettivamente questa influenza dei popoli germanici si vede a macchia d'olio in tutta l'Italia soprattutto nel nord Italia chiaramente Lombardia Emilia Romagna fino anche alla Toscana che è una delle regioni in cui i popoli goti e su proprio Longobardi hanno influenzato di più a livello genetico a livello culturale a livello linguistico anche ci sono tantissime parole sia dell'italiano entrate prima dal toscano volgare ma anche dei dialetti dei dialetti lombardi piemontesi veneti c'è tantissimi termini che derivano da parole Longobarde che infatti non troviamo in altre aree d'Italia ma non solo anche in alcune aree del sud Italia troviamo delle invasioni chiamiamole così Longobarde germaniche molto influenti in Campania nell'area del Casertino oppure persino in Sicilia le stesse invasioni dei normani non sono proprio germaniche però insomma seguono delle invasioni precedentemente avvenute questo per dire che probabilmente è stato difficile forse per una cultura di tipo classico è fondata sulla centralità di Roma accettare questa cosa e per Roma intendo sia l'impero romano prima che poi la chiesa di Roma e quindi nel mondo cattolico ovviamente le popolazioni di barbare noi sappiamo benissimo barbare le popolazioni germaniche sappiamo benissimo sono state considerate barbare fino a per molti secoli diciamo ancora anche nel cristianesimo però appunto vorrei sottolineare ancora una volta questa cosa cioè che se noi andiamo a studiare dizionario oppure le leggi le costituzioni troviamo un'impronta di questi popoli germanici che quindi non rimane solo a livello di folclore di mitologia perché poi se dobbiamo parlare di folclore ne possiamo fare tantissimi esempi ne facciamo guarda solo uno così di sfuggita la famosa caccia selvaggia cioè o la caccia fantasma la caccia selvatica cioè questa questo mito questa credenza del folclore è che in determinate notti dell'anno sia possibile vedere passare questa schiera di guerrieri fantasma capitanati da questo capo guerriero fantasma anche egli che sarebbe Odino ovviamente è una esattamente connesso con Odino la schiera selvaggia di Odino i berserker la credenza che le anime dei guerrieri vengano poi portate da Odino nella Valhalla e poi che debbano combattere alla fine del ciclo cosmico durante il Ragnarok con le forze dell'oscurità e del disordine quindi anche in queste credenze del folclore si può vedere ancora oggi l'influenza della cultura germanica in Italia però come detto non solo in quello nelle varie branche che ho provato a riassumere la principale differenza che hai riscontrato appunto tra la cultura greco-romana è quella questa è una domanda un po' è difficile da riassumere in un concetto due concetti cosa posso dire non lo so a me sembra sinceramente la principale giusto la principale a me sembra principalmente non vorrei dire una stupidaggine però mi sembra così che la cultura mediterranea greco-romana sia più rituale più ritualistica quella quella germanica e e anche celtica se vogliamo però più quella germanica più a che fare secondo me con un concetto di destino di fatto quindi questo non riguarda solo l'individuo come detto riguarda anche la stirpe non che i greco-romani non conoscessero questa dottrina questa concezione perché anzi conosciamo le moire le parche ananche diche tutte figure femminili legate al destino però mi pare che nella concezione germanica abbiano un'importanza maggiore ecco invece nella concezione greco-romana conta più il rituale e conta più forse non lo so anche l'inserimento in situazioni religiose sacrali più diffuse più collettive laddove invece nel mondo norreno a mio parere sia predominante la dimensione individuale ecco penso questo interessante come punto questo assolutamente perché è ovvio che ci siano differenze da un punto di vista pratico-magico assolutamente però si si fa fatica evidentemente a capire da dove arrivi questo tipo di differenza sicuramente da un punto di vista più del sud Europa ci siamo affacciati tanto anche alla magia araba alla tradizione araba qualcosa che magari sopra nel nord Europa è mancato ecco ecco sì potrei dire anche questo mi sembra che l'ambito mediterraneo soprattutto greco e della magna grecia sia più devozionale forse questo si riconnette anche poi con innanzitutto con l'adorazione di idee di idee madri quindi di divinità femminili ma poi proprio anche nell'elemento devozionale che troviamo ancora oggi per esempio nel meridione dell'Italia penso che sia strettamente connesso questo tipo di culti che ecco a parte questo è uno dei punti che ho cercato di mettere in rilievo come nel panteo nordico la dea più importante quella più particolare che freia non ha la caratteristica di dea madre invece è molto più particolare più quella che appunto è la diana dei romani che però invece credo che non si possa non c'è una figura come freia nell'ambito mediterraneo proprio perché le idee mediterranee non so hanno questo aspetto molto più devozionale che a mio parere troviamo anche per esempio nell'adorazione della Devi in India oppure nella nella stessa adorazione per la Madonna cristiana ecco penso che il sud europeo proprio come inteso come ambito mediterraneo e greco metta bene in risalto questa cosa ecco forse nell'ambito romano molto meno perché ecco l'ambito romano forse è più simile come già dimostrato Dumezil all'ambito cultuale degli asi quindi degli dei uranici grazie Marco veramente ti ringrazio moltissimo come sempre ringrazio tutti voi che ci avete seguito vi ricordo che la settimana prossima inizia proprio il corso di Marco Maculotti su la magia del nord quindi se vi è piaciuta questa conferenza non esitate a scriverci per iscrivervi al suo corso il suo primo che terrà con noi grazie ancora a tutti voi grazie Marco ci vediamo giovedì prossimo con Pai Leonardo a presto grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri